...e due, e tre, e quattro, e cinque, e sei, progiro, tre, dentie, tre, e trasporto, tre, dentie, tre, e trasporto, tre, dentie, tutto, dentie, tre, 3, in realtà uscita del terzo, non importa che viene in seconda, torna, scono, chiudo, andui, loop, tiro avanti, loop, tiro avanti, e giro, e 1, e 2, e 1, e 2, e 1, e 2, e 3, taglia, da dietro, uno, due, tre, e 4, 5, 6, 7, quindi ci giriamo, facciamo, alle dede, Il piede era la braccia, il cerco l'equilibrio e il bascino è l'unica. Erano tre controlla, e uno, e due, e tre, col passaggio c'è allonge, e la testa gira. E uno, e due, e tre completi, e passo da qui. 45, vado dietro.